E' tornata nel Salento, emozionata e felice. Alessandra Moroso ha scelto il piazzale degli Agostignani di Belpignano come tappa del suo Amore Puro Tour, che l'ha portata in giro per l'Italia. Nel comune grico, reduce dal successo di Amici di Maria De Filippi, la volle nel 2009 Sergio Blasi per il concertone finale della Notte della Taranta. Come lui stesso ha voluto ricordare nel corso della conferenza stampa che Alessandra ha tenuto poche ore prima del concerto. Durante l'incontro la cantante ha parlato del suo rapporto con il Salento e con la famiglia e ha ricevuto in dono un tamburello da pizzica. Io sono veramente sta felice perché non ci vengo da un po'. Giro tanto l'Italia ringraziando il cielo, però casa la tocco molte poche volte per quanto riguarda il mio lavoro. Di sicuro non so nulla, perché di sicuro in questo lavoro proprio non esiste. La sicurezza non esiste, intanto sono ben proiettata su oggi e su questo tour che verrà. Poi, fazza addio. Fanno di tutte le età provenienti da ogni parte del Salento e della Puglia hanno atteso di sentir cantare dal vivo la loro beniamina nel piazzale degli Agostignani. Tu sai tutte le canzoni a memoria o è tuo padre che te le insegna? Qual è la tua preferita? Forse amore puro, non devi perdermi le nuove. In più per lei c'è la componente di Argec che fa sicuramente un effetto trascinante. Un po' meno per il papà. Il papà ha... Alessandro Moroso. Quanti chilometri hai fatto per venire a sentirla? Secondo me ha una bellissima voce perché è un dono di Dio, ha questo bel talento, speriamo. Le piacerebbe ascoltarla magari nel coro della sua chiesa? Perché no? Le faccio una proposta. Facciamo una proposta, Alessandro l'aspettiamo a cantare in chiesa. Chiesa di? Taranto. È più fan lei o sua figlia? Io sono molto fan, siamo andati anche ad amici, noi però lei poverina non è entrata, perché era under 14, non lo sapevamo e quindi mi sono sacrificata, sono entrata da sola. Quindi siete proprio delle fan sfegatate di Alessandro? Sì, di Alessandra come no, poi oggi giochiamo in casa, quindi noi siamo tutti da Taranto e siamo felicissimi. Da quanto tempo siete qua? Da stamattina alle 8. Addirittura è entrato per primo? Sì, sono riuscito ad entrare. È un grande fan di Alessandra? Sessant'anni, se no non starei qui in prima fila. Una canzone di Alessandra che ti piace, vai, intonala. Questa notte è nostra. Corri vuole angelo mio, come fosse l'ultimo motivo, per rimanere vivo e seguito. Corri vuole angelo mio, come fosse l'ultimo motivo, per rimanere vivo e seguito. Corri vuole angelo mio, come fosse l'ultimo motivo, per rimanere vivo e seguito. Grazie a tutti.